Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo grandissimo ritorno al Foss Fishing Quest'oggi un video diverso rispetto ai vecchi video a Foss Fishing Infatti oggi, oltre al fatto che vi farò vedere la vostra grande richiesta Sia la Mimic che la Blackwater a Foss Fishing Come si comportano Vi farò anche vedere i due opposti del Foss Fishing Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete per iscritti Ho in mente altri bei video da farci a Foss Fishing Quindi superiamo i 120 mi piace se ne volete ancora del genere Già la prossima settimana ci respira un'aria un po' piccante Quindi vi aspetto nelle prossime settimane Ci saranno delle cose un po' hot Dunque ragazzi non parto altro tempo e direi via col video Ok Prisa e vai Eccola qua Finalmente la nuova Mimic 0,6 grammi Impiega con delle carpe Dato che mi avete chiesto in tanti come si comporta Foss Fishing Eccola qua Ok Questa è ok, è solida Ok Ok E' incazzata La signorina è incazzata Non vuole entrare nel guadino Bella, bella carpettina E' una bella carpettina Ed è nel guadino Oh yeah Allora video Uff se è slamata Ok Andiamo col rilascio E via che va E via che va Passano Ora Incazzata E' un salto E' un salto bruro Con E' un salto Voi Alguien Cuoncé Questa Questa diciamo Che 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 the image Grazie a tutti Eccolo qua Siluro al light Mangiata indiretta Ragazzi sto usando il boss del 18 quindi devo stare attento Perché qua viene in posti dove può tagliare Minchia Incazzato eh E' incazzato Per l'appunto Vai Vieni vieni Cerchiamo di stancarlo Comunque sto utilizzando la Blackwater 0,10 grammi Comunque abbiamo su il piccolo Grabbettino Della Seica Eccolo è brutto quindi gira 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 Bravo Non così ma va bene Abbiamo fatto lo stesso E sto utilizzando Oltre al boss Che è il terminale In fluorocarbon Un bel viral Dello 0,08 Adesso bisogna anche trovare un posto per guadinarlo Questo siluro Bel siluretto Tra gli 80 al metro penso Guardarlo da qua Approccio ultra light No Qua io non riesco però a scendere bene Dobbiamo portarlo in un punto migliore Vieni 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 Purtiamo a spasso un gattozzo Un posto per scendere Un posto per scendere Fatemi vedere Perché qua Non c'è neanche abbastanza acqua sotto riva Per tirarlo fuori Perché si ho il guadino Però bisogna anche arrivarci Vediamo un pochino più avanti Come avete visto Ecco forse qua Io l'ho lanciato davanti Perché non riuscivo a trovarlo Non riuscivo a trovare l'esca E poi Ho aspettato un attimo Prima di ferrarlo Per farlo mangiare bene In modo che Non si slamasse in alcun modo Questa è la tecnica migliore Per andare sul sicuro Adesso senza cadere in acqua Vediamo qua dove arriva Ok qua ci posso mettere un piede In teoria Però non ci arrivo Ecco qua sembra già più promettente Ok Dove è finito? Ok là Ok Dai Vieni qua Vieni 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 Dai si doveva proprio impigliare sulla pinna Ok Presa perfetta al lato della bocca Vai Vai Ok No qua finisco dentro Mannaggia st'acqua bassa E vaffanculo Dai dai Ecco per l'appunto Vabbè Guadagniamolo così Visto che ci siamo Eccolo qua E ce l'abbiamo Ho rischiato di andare in acqua Eccolo qua Pesa Eccicciotto Si sarà Tra gli 80 al metro Saranno 5 kg di pesce Eh già Eh già Eccolo qua Eccolo qua Vieni vieni Iccolo qua Eccolo qua Cosa Allora Eccolo qua Dimensi Che Vi bella Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Di Vieni Mi Vedo qua